Il segreto, puntata martedì 10 ottobre 2017, addio candela, anticipazioni, il piccolo paese iberico nei prossimi giorni sarà invaso da buone e brutte notizie, inoltre tutti i paesani saranno coinvolti con la raccolta di alcuni scatti fotografici, alla casona, Francisca e Raimundo vivranno dei momenti felici, addirittura Lulloa sorprenderà la Montenegro con un regalo inaspettato, di cosa si tratta, infine candela metterà al mondo suo figlio ma purtroppo dopo il parto la pasticcera perderà nuovamente i sensi, riusciranno a salvarsi, all'osmanatiale si respirerà molta tensione per colpa di Ismael, infatti sia Hernando che la moglie e Camila scopriranno che il ragazzo è un impostore, dopo una serie di ricerche si renderanno conto che il loro dipendente si è fatto spacciare per un'altra persona, a quel punto il padre di Beatriz chiamerà la guardia civile per farlo arrestare, purtroppo i telespettatori della sua Piberica dovranno dire addio ad un altro storico personaggio, stiamo parlando dell'anziana Rosario Castaneda che lascerà Piente e Ibieco per partire per Cuba, prima parte, tragica notizia, Cristobal continua a ricattare Carmelo e trova un nuovo espediente per tenerlo in scacco, egli gli dice di essere riuscito a far ammettere all'Accademia Ulpiano, figlio di Adela e di Leonida Stalavera, l'uomo che lui l'ha fatto fuori, nel frattempo, la tragedia si consuma alla mia e la marga, Severo ritorna in lacrime alla tenuta e comunica a Carmelo che Candela ed il bambino purtroppo non sono sopravvissuti, egli è ormai rimasto solo, non proverà la gioia di diventare padre, ed un destino crudele gli ha contemporaneamente portato via la donna della sua vita, Cristobal l'ha nascosto nello studio, ed ascolta tutta la conversazione, nel sentire quello che è accaduto, egli non può fare a meno di provare una gioia malvagia, il suo avversario è annientato dal dolore e basterà davvero poco per dargli il colpo di grazia, seconda parte, un colpo di teatro, intanto, mentre nella piazza di Puente e Ibieco c'è la mostra fotografica di Nicholas Hortuno, all'Osman Antiale si vivono momenti davvero difficili, avuta ormai la prova dell'inganno di Ismael, che si è appropriato di un'identità non sua, Ernando aspetta che egli ritorni per poterlo denunciare alla guardia civile, il giovane, però, si presenta all'improvviso la tenuta, un colpo di scena davvero incredibile attende Ernando, Ismael, probabilmente temendo di finire in carcere, calerà il suo vero e proprio asso nella manica, egli, infatti, assolutamente sorpresa, confessa al Dos Kessos la sua vera identità e lo supplica di perdonarlo. Ultima parte Il segreto di Fe, l'arrivo a Puente e Ibieco di Caridad, la gemella di Fe, ha sconvolto gli equilibri fra la simpatica rossa che presta servizio a Villa Montenegro e il capomastro Mauricio Godui. L'uomo, legato alla domestica da un tenero sentimento, non si spiega il motivo per il quale la donna si è sottomessa alla gemella, e cerca di saperne di più. Purtroppo, Fe pare piuttosto resti a parlare dell'argomento e si comporta in maniera quanto mai sfuggente. Appare comunque piuttosto evidente che le due gemelle abbiano qualcosa di piuttosto scottante da nascondere, un oscuro segreto che ha segnato la loro esistenza e che le lega in maniera indissolubile. Caridad sembra tenere in pugno la sorella, ma non è dato sapere il motivo, dal momento che Fe non pare intenzionata a rispondere alle domande di Mauricio.